Buonasera, stasera sono dalla pizzeria Mascolo e sono qui a Gragnano in provincia di Napoli per degustarmi di persona il loro panuozzo, che sono praticamente a festeggiare il compleanno di mio padre. Adesso ci andiamo ad accomodare al tavolo nostro. Che adesso stiamo mangiando? Qua stiamo mangiando delle pizzerine così, per cominciare, e poi mangiamo invece i panuozzo. Sono venuto qua apposta per mangiare il panuozzo che loro mangiano. Ciorillo? Da Mascolo, l'alte del panuozzo dal 1982. Stando. Ciorno. 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 andiamo ad assaggiare i crocchè di patate con la mozzarella dentro per la filante e patate andiamo ad assaggiare il crocchè e mangiate ok con il latte bello filante tutto tutto no assaggiare il digiuno lei lo fa al contrario questo è un po' le mangio Grazie. E adesso, attendiamo invece i panguzzi. I ragazzi sono venuti ad assaggiare un po' di salù. Allora, abbiamo questa mozzarella, questa mozzarella, questa trecchina. Questa è il salame napoletano. Ecco qua. Il salame napoletano. Che ti do? A te? È molto postulato. Perché il tuo beltranno non l'hai visto? E adesso siamo finalmente all'assaggio del panuzzo. Allora, questo è il panuzzo del panoloro. Allora, questo qui è porchetta. Questo è con la porchetta. Porchetta, patatine fritte e provola. È più di latte nella maggior parte. Noi andiamola ad assaggiare. Finita la porchetta. Con la porchetta è buona. Questa... È finita con la porchetta. Eccolo qua, questo con la porchetta è buona. Non è arrivato a buona. Non è arrivato a buona. È finita la porchetta. È finita la porchetta. È finita. È finita quella con la porchetta. La porchetta. Gianlu. Adesso ci vado. Ho copiato Kaka di Surtro Ho giocato io Ora, per solo impostare Come si chiama? Per impostare con Mystic Uomini e Mystic Ti ha fatto solo un favore Dopo che hai giocato, come se ne accade più? Non è utile Non è utile Non è utile Ma è sicuro, hai giocato io E quando mi faccio? Sono 5 Non è utile Non è utile Non è utile Non è utile Grazie. Buongiorno. Buongiorno a meno. Buongiorno a usare la partita. Alla prossima. questo pannuzzo è proprio buono questo pannuzzo di questa mezzeria è buono ve lo consiglio bravi ragazzi ottimo questo pannuzzo bravi ve lo consiglio e adesso andiamo ad assaggiare invece il pannuzzo ovviamente la mia materia la mia prima materia ovvero sempre provo le patatine fritte però con il brussel e adesso andiamo ad assaggiare questo qui con il brussel che io semplicemente avevo chiesto gli stelle patatine il secondo pannuzzo non mi assaggio invece il pannuzzo io andiamo a fare la conferenza la conferenza in un pannuzzo europeo la conferenza in un pannuzzo 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 Grazie. Buono, è buono anche questo qui con il gusto e il palatino. Ciao a tutti, adesso andiamo alla fine senza video, il secondo traccio, ciao, a dopo.